Oltre 200 persone fra cittadini e amministratori hanno partecipato all'open day della discarica di cemento amianto di Ferrere Erbognone che nella giornata di sabato ha aperto i cancelli al pubblico in segno di trasparenza riguardo ad un'attività osteggiata e temuta da una larga fetta dell'opinione pubblica del territorio alla vigilia della sua realizzazione. L'amministratore della società Francesco Minghetti ha accolto dunque nell'impianto diverse persone provenienti da Ferrere dai comuni limitrofi che a piccoli gruppi hanno ricevuto spiegazioni tecniche sulle procedure di conferimento, sui monitoraggi ambientali e infine a bordo di un furgone sono stati portati all'interno del bacino della discarica vera e propria per vedere, restando sempre sul mezzo, la coltivazione dei bancali di cemento amianto. Voglio ribadire che un aspetto fondamentale è che Acta ritira solamente la matrice compatta del Friab, cioè quella che è all'interno della matrice cementizia con una percentuale di circa 80% di cemento e circa 20% di amianto. Ricordiamo sempre che la lastra, una volta rimossa dall'impresa specializzata, viene sempre incapsulata, sempre. Quindi la tutela è massima, c'è l'incapsulante e c'è il telo che avvolge queste lastre. La dispersione del fibre non si è mai verificato un episodio che potesse attestare questa dispersione. Fate conto che Acta fa settimanalmente sempre delle verifiche analitiche, sia ambientali per il personale. Facciamo le verifiche analitiche settimanali sul percolato, quindi sulla matrice acqua, e anche in questo caso non abbiamo mai avuto problemi. Il rifiuto è incapsulato, intelonato e il camion è chiuso. Quindi dispersione di fibre durante il trasporto non è possibile che si verifichino, non è proprio possibile che si verifichino.